Sono Deborah Macaruso e Davide Fumagalli, i vice campioni europei 2015 di World Dance Council, professionisti Latin Show Dance. Un prestigioso riconoscimento per i due ballerini nisseni appartenenti alla NMB, l'Associazione Nazionale Maestri di Ballo, in coppia nella danza e nella vita, conquistato nella gara svoltasi a Mosca il 14 e il 15 marzo, che li ha visti tra i rappresentanti italiani e europei, assieme ad Emanuela Di Pasquale, Luigi Tiberia, Luca Rocco e Rosalba Calciopietro. Una manifestazione alla quale hanno partecipato 14 coppie provenienti da tutto il mondo, giudicate da una giuria, composta da sette membri provenienti dalla Francia, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Russia e Ucraina. Un titolo che si aggiunge a quello di campioni italiani di show dance e latinoamericani per Deborah Macaruso e Davide Fumagalli, arrivati in finale ai mondiali in Russia a Tumann e alle finali al Deutsche Open in Olanda. Un risultato inaspettato, in quanto già quest'anno comunque aver raggiunto delle finali al mondiale era qualcosa di grande, però addirittura riuscire ad essere vice campioni europei a livello mondiale è un'affermazione più che nota. Anni e anni di sacrifici, ti giochi tutto in un'esibizione della durata di tre minuti, con la paura pure di chiaramente di ricevere il giudizio da parte dei giudici, che non sono giudici solo italiani ma giudici di tutto il mondo. Quindi ancora più grande è stata la nostra vittoria, il nostro traguardo, sapere di essere riusciti ad emozionare anche i giudici di tutto il mondo. Noi balliamo insieme effettivi da tre anni e mezzo, conviviamo da quattro e ogni giorno è sempre un qualcosa di speciale. Comunque viviamo 24 ore su 24 assieme, tra il bene e il male comunque sempre insieme. Riuscire ad arrivare a un risultato di questo tipo, comunque secondo è un campionato europeo e vi devo dire anche che per colpa di due punti non l'abbiamo vinto e battavamo il campione del mondo. Quindi è stata una cosa diciamo inaspettata, ma nello stesso tempo io, perché parlo come Davide, ero sicuro di riuscire a batterli. Comunque volevo come ultima cosa ringraziare tutte le persone che ci hanno appoggiato nella federazione, partendo da Stefano Francia che ha creduto in noi sin dall'inizio, che ad arrivare a Caterina Arzenton, che comunque ha partecipato come giudice a Baila, soprattutto vorrei ringraziare anche i nostri insegnanti, Tino Michelotto e Carolyn Smith, che vi ripeto ha fatto Ballando con le stelle, e volevo ringraziarli soprattutto non perché sono dei bravi maestri, ma anche sono delle brave persone umili. Volevo ringraziare anche Luigi Petrarca, che anche lui una settimana e mezza fa ha dato la possibilità di poter esprimere e far visionare per una penultima volta questo show.